Ciao ragazzi, benvenuti questa quarta settimana qui negli States Oggi è lunedì, primo giorno della settimana Probabilmente vi avrò appena lasciato una clip di questa mattina Comunque è mattinata, sono stato da Starbucks, ho studiato un po' Poi brunch, quindi solito colazione e pranzo insieme E nulla, mi sono rilassato un attimino e poi sono andato in palestra Fare qualche esercizio e un po' di stretching, mobilità, circa un'oretta Ora sono le due e mezza, stiamo andando al campo Dove tra un quarto d'ora partiremo tutti insieme per la solita corsetta Oggi è lunedì, quindi corsa facile E nulla, post corsa, poi avrò di nuovo sessione di palestra con il team Comunque questo weekend è molto importante perché è il primo weekend in cui gareggeremo Non sarà una vera e propria gara perché andremo ad affrontare questa gara con dei target time Quindi il coach ci dirà il passo da mantenere durante la gara Perché andiamo a correre questa gara solamente per vedere il percorso e per impararlo In quanto si svolgeranno poi tra uno o due mesi i campionati nazionali direi in questo percorso Quindi è molto importante andarlo a vedere Buongiorno ragazzi, oggi è martedì, giorno 2 della settimana Ora sono qui che sto studiando, venerdì ho il mio primo esame di comparative politics E nulla, questa mattina ho di nuovo colazione e ora sono di nuovo qui a studiare un'oretta Prima che inizino le classi È molto difficile prepararsi per questo primo esame perché è la prima volta che inizio a leggere e a studiare Ho un libro completamente in inglese ovviamente Quindi devo un attimino col traduttore aiutarmi a scrivere i termini in italiano delle parole che non conosco E farmi un attimo i miei schemi Però è molto bello, molto utile soprattutto per migliorare l'inglese ancora più velocemente Vi faccio vedere al volo qui come sono organizzato, quindi il libro qua sotto Qua ho già iniziato ieri sera a studiare, a farmi i miei schemi Il libro da destra, argomenti da studiare Ecco, sulla sinistra, traduttore, importantissimo E nulla, ora continuo quindi nel mio studio un'oretta, fino alle 10 e mezza circa Poi vado in classe, ho lezione e nulla Lezione, pranzo, lezioni di nuovo, fino alle 3, un quarto E oggi poi giornata del lavoro Come al solito, 3 miglia warm up, 3 miglia cool down E il lavoro oggi sono 5 volte il miglio Quindi nulla, se riesco a trovare qualche clip poi dai ragazzi Parra coach che vengono a filmare Te la condividerò Work hard, play hard, play hard, we work hard, play hard Keep partying like it's your job Work, play hard, keep partying like it's your job Pop lock it, don't care what you got in your pocket I beat the way that you're rocking with that bang bang I beat the way that you're rocking with that bang It's not a big thing, it's not a big thing It's not a big thing There you go guys Look! 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 Look, look! Look, look! Look, 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 look and look at theids Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Buongiorno! 137! 136! 137! 142! Buongiorno! Ciao ragazzi! Appena finito allenamento, sono le 11. Oggi ci siamo allenati dalle 8 alle 10.45 perché alle 3 e mezza c'era davvero troppo troppo caldo e sono davvero stanchissimo ora e adesso devo cenare al volo, mangiare qualcosina per recuperare perché il lavoro è stato molto tosto abbiamo fatto 3 miglia warm up, 3 miglia cold down e 5 volte il miglio a tempo pace quindi intorno ai 3-10-3-15 km nulla ora cena molto veloce un po' di pollo, pane e due biscotti quello che ho preso dalla caffetteria quest'oggi prima di allenamento con tanto di video del nostro cinema nulla cena veloce riposo e domani mattina alle 6 e mezza di nuovo practice quindi allenamento tra 7 ore neanche quindi mangio velocissimo a riposarmi e domani mattina ci riaggiorniamo avrò da correre 9 steady mile quindi circa 15 km ma penso che il mio steady pace domani sarà molto molto lento per recuperare perché oggi sono da però distrutto e nulla ci aggiorniamo domani ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo giorno oggi mercoledì come avevo accennato ieri questa mattina allenamento molto presto e dopo l'allenamento di questa mattina rapidissima colazione mi sono riposato e poi ho iniziato le classi quindi tutto il giorno abbastanza pieno ora ho appena finito cena sono le 6 e mezzo ho mangiato molto presto sono andato a ritirare dall'ufficio del coach i prodotti i bienerci drink che ho acquistato scorsa settimana questa sera la dedico poi allo studio visto che venerdì ho il mio primo esame e vi faccio vedere al volo i prodotti che ho preso cinque di questi qui che sono energy drink ad alto contenuto di carboidrati questi quali ho presi per il pre-gara perché hanno circa 400 calorie l'una solo di carboidrati e zuccheri quindi pre-gara ottimi poi questo altro prodotto recovery gusto cioccolato quindi post allenamenti intensi post gare per recupero muscolare proteine ottimo quest'altra confezione per l'idratazione durante gli allenamenti questa scatola con 10 barrette da consumare durante l'allenamento e soprattutto ho preso questi prodotti per i lunghi della domenica quindi per integrare durante i 20 km circa che devo fare ogni domenica e per gli allenamenti più intensi ciao ragazzi è venerdì appena finita l'ultima classe l'ultima lezione della settimana sono andato a ritirare un pacco di Amazon che avevo ordinato qualche giorno fa e nulla ora rientro in stanza mi cambio al volo che vado a correre 5 km facili per sciogliere le gambe poi questo pomeriggio lo passerò ad editare il video che che vi pubblico domani quindi il weekly vlog 3 poi a riposare presto che domani mattina alle 6 partiamo per andare appunto alla gara anche se gara tra virgolette perché appunto è un allenamento il coach ci ha appena mandato la mail con i tempi da rispettare dovremo seguire una progressione di 10 secondi ogni miglio quindi andando a incrementare il passo un bel allenamento nel contesto gara giusto per vedere il percorso ci aggiorniamo domani che se riesco vi porto un po' di video di questo allenamento gara ecco ha chasera lascia che è ho Happy birthday to you boys, happy birthday to you. Happy birthday to you boys, happy birthday to you. Happy birthday to you boys, happy birthday to you.